salve a tutti cari figlioli e ben arrivati in questo 35esimo episodio di ark qui con me con dave devo aprire il video con una notizia triste in parte triste sì perché per catturare questo artefatto qui a forma di uovo che vedete alla mia destra cioè la vostra sinistra introducendomi in quella fottutissima caverna che stanno diventando davvero le caverne un qualcosa di impossibile da fare in single player ho perduto il mio lupo sì purtroppo è sparito si è volatilizzato un po come l'alfa dodo zombie ve lo ricordate quando siamo ritornati dall'obelisco che è sparito ecco la stessa cosa è successo con il lupo pare essere presente all'interno del server perché me lo da presente ma non so che fine abbia fatto chi è che mi caga da lassù scusate ma sei tu che mi fai la cacca sui miei cosi ma dai sui miei belli artefatti mannaccia mannaccia e quindi triste triste da circa un'oretta che lo sto cercando e niente da fare purtroppo lo credo di averlo perso e con esso tutto quello che c'era al suo interno e solitamente c'ho tante belle cose al loro interno avevo le frecce narcotizzanti quelle bellissime costosissime che costano un sacco di funghi avevo l'arco avevo tutto avevo mannaccia mannaccia il lupo ce lo possiamo anche ricraftare non è un problema poi bisognerà livellarselo di nuovo a livello 200 però sono triste tanto triste io spero che in qualche modo si qua nel frattempo c'è il cadavere di questo tizio qui vabbè io spero in qualche modo di poterlo ritrovare e nel più breve tempo possibile nel frattempo vi faccio vedere queste key ball guardate un po le sto prendendo prendiamole 10 va sono key ball speciali che ci vengono droppate con l'uccisione dei boss mi sembra se non ricordo male si con i boss c'è danno sono speciali perché vanno bene per tamare qualsiasi alfa della linea extinction core quindi molto comodo ma c'è un animale in particolare che invece richiede esclusivamente queste key ball lo scimmietto come lo possiamo chiamare gigantopiteco eccolo laggiù guardate guardate è un alfa dosta eccolo lì fatti vedere rosa ma che cari ma sono tutti rosa tutti un po gay gli animali gigantopitecus solitamente quello standard bisogna fare il timing quello passivo somministrando il cibo ogni tot il tempo che a me mi rompe veramente tanto le palle quindi non li tamo mai questi animali invece lui può essere steso a terra sta facendo la cacca cosa fa deve essere steso a terra e poi somministrati queste key ball qui quindi devo dire una figata proviamo a tamarcio perché un livello 112 e solitamente sono anche abbastanza forti quindi prendiamo il nostro fucilozzo spero che si possa tormentare con il fucilozzo mi tira cosa mi tira sta scappando dov'è mannaccia sto albero bravissimo si è messo no tu lasciamelo ma sono tutti qua adesso guardate stanno arrivando tutti qui tu non mi attacchi vero no che ricarichiamo sto fucile è meglio è meglio addormentarli gli animali si sta già svegliando vediamo no ok prendo i narcotici nel frattempo accoppiamoci questo prima che si svegli perché altrimenti romperebbe di nuovo le scatole sapete com'è ok ok sta già mangiando bene bene quanti ne vuole diamone ancora in totale cinque lino date beh dai abbastanza veloce tutto sommato mannaccia 4 il pony l'alfa dodo il di folosauro e adesso questo gigantopithecus facciamo l'armata rosa facciamo mannaccia che cos'è maschio femmina oltretutto femmina beh meno male meno male altrimenti avrebbe avuto qualche complesso secondo me ma ste cacchio di foglie si possono togliere ok togliamo via sta vegetazione così almeno lo vedo meglio ok da livello 112 tanta roba vediamo quanta vita 23 mila dai non è malaccio può trasportare 858 buono resistenza mi sembra discreta allora ci siamo quasi manca poco vediamo un pochettino dai l'ultimo l'ultima keyball del nostro guardate lassù invece che cosa c'è fortissimo mi sembra più una salamandra che un talaico leo guardate che roba o eccolo qui bravo bravino si è diventato amico nostro non hai bisogno della sella tu vero no ok o che bello ok adesso c'è solamente quel difetto del torpore che continua a salire ne sono sicuro si continua a salire il torpore va bene riavvio e rientro allora grazie anche al timing perfetto abbiamo acquisito un botto di livelli da 116 a 167 ne hanno già aggiunti due adesso ne aggiungiamo anche il terzo quindi direi tanta roba siamo arrivati a quasi 30.000 di salute quindi buono 300 danni da mischia vediamo un po quanti danni fa è una cosa guardate quanto è veloce mannaccia è velocissimo che figata vediamo contro l'albero che è bello duro no ah fermo 212 ok non è che sia quel gran che col tastino destro no 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 aiuto 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 mi sono sbagliato non mi lanciare via allora terzo tastino cosa fa niente ok speravo che lanciasse qualcosa invece niente fa 211 di danno quindi non è tanta roba onestamente speravo su un 500 600 qualcosa del genere la stamina la consuma anche abbastanza direi e guardate che roba e su via gentilmente mi muoia grazie ok abbiamo preso un altro livello bene adesso voglio dare quanti livelli prendiamo con la sua morte dai che sono curioso ok bene allora attribuiamo i livelli vediamo un pochettino no non ci ha dato niente mannaccia cos'è a mal di pancia cos'hai e sì quando gli diamo il livello gli viene mal di pancia guardate che roba e cerca di mozzicarmi il mio piede allora è bello veloce vediamo nell'acqua non può saltare guardate nell'acqua come va veloce no non ci credo è un fulmine nell'acqua ma è fantastico ah no stavamo solamente camminando ancora beh direi che anche nell'acqua è abbastanza veloce buono può colpire anche nell'acqua quindi ok una cosa interessante che ho trovato e vediamo un pochettino trasferiamoci nell'altra base ecco piuttosto che prendere il brontosauro alfa per andare a fare i funghi che bisogna arrivare fino alla zona della palude e poi distruggere un albero alla volta che è anche se la coda è efficace contro molte bacche per raccogliere i funghi invece bisogna aspettare il tempo tecnico di abbattere un albero per volta invece guardate quanto non può saltare mannaccia passiamo di qua e invece guardate quanto è veloce il nostro scimmione io direi allontaniamoci un pochettino così però obiettivamente è più veloce con lo scimmione piuttosto che con il bronto alfa guardate che storia abbattiamo molti più alberi con lo scimmione guardate ora come ora il danno l'ho alzato a ben 545 per cento quindi direi tanta roba sapete che aumentare il danno aumenta la quantità raccolta delle risorse ecco diciamo che ho trovato un aspetto negativo sono appena stato attaccato da un capro sucus e sapete quelli lì che ti saltano addosso e ti tirano giù dall'animale che stai montando diciamo che il paragone con il brontosauro ne farebbe uscire vincitore appunto il bronto perché quando siamo su di lui siamo veramente su una fortezza inespugnabile di sicuro non potremmo essere attaccati da questi animali e sicuramente si potrebbe difendere molto meglio dello scimmione credo che forse questo è l'unico vantaggio del bronto a questo punto allora attribuiamo gli ultimi livelli acquisiti poi direi ritorniamocene alla base ok ok che c'ha mal di pancia poverino ma quasi mi dispiace dargli i punti mannaccia mi dispiace dargli i livelli perché poi lo vedo soffrire bene guardate con quale velocità zompettiamo verso la nostra base e ce lo riportiamo nella sua posizione insieme alla squadra rosa bene io direi per il momento mi facci passare mannaccia per il momento lo piazziamo qua insieme all'armata della rosa chiamiamola così ma che bello dai l'armata della rosa guardate che carini tutti belli rosa allora mettiamolo in passivo non mi seguire più ok passivo perfetto ora direi proviamo andare a cercare quel il gallinaccio alfa livello 112 116 che cos'era non ricordo bene ma me lo voglio tamare allora ci servono le key ball dove sono quali erano del compi se sbaglio ok megalosauro ok prendiamole tutti e 13 poi abbiamo anche queste quale xenon che sono universali quindi possiamo usare anche quelle volendo chi ha la tosse non ho capito chi è che ha la tosse qua sei tu ah no io sono avvelenato ma di cosa me la sono presa nella grotta però poi mi ero curato non so perché mi è tornata io direi di prendere altri narcotici poi volevo fare una cosa voglio provare usare questo come si chiama additivo questa cosa qua che dovrebbe accelerare il consumo di cibo a scapito comunque del del torpore se non ho capito male dovrebbe aiutarci a velocizzare il timing vediamo un pochettino allora prendiamo il petrodonte dov'è il petrodonte ma se sei sveglio è ma tanto sveglio cioè alla faccia della nebbia qua non si vede più niente cos'è sta storia allora bene cari figlioli stiamo cercando il gallinaccio che se non ricordo male era da queste parti qua mi è venuto in aiuto quel cadavere che abbiamo visto all'inizio del video adesso è vivo ciao andrea che ci darà una mano a tamarlo vediamo un pochettino soprattutto se riusciamo a trovarlo e se non ci facciamo accoppare allora dovrebbe essere da queste parti è un alfa quindi dovrebbe anche lasciare al buio così si dovrebbe vedere anche meglio bene cari figlioli non siamo riusciti più a trovare il teri zinosaurus il gallinaccio alfa e l'abbiamo cercato per circa un quanto un quarto d'ora e andrea sì più o meno più o meno un quarto d'ora non l'abbiamo più trovato quindi alla fin fine ci siamo arresi e passeggia di qua passeggia di là guardate che carino abbiamo tamato un piccolo di alfa mammut alfa mammut è un baby quindi purtroppo ci va ancora tutto il tempo tecnico perché diventi adulto ora lo abbandoniamo qua perché noi siamo molto molto protettivi nei confronti nostri animali e ce ne andiamo per i fatti nostri qui più se ne frega qui più che altro c'è una testa che fluttua allora ciao piccolino mi raccomando non farti sbrenare dai lupi noi ce ne andiamo a passeggio speriamo di trovare qualcosa di un pochettino più interessante perché l'obiettivo è o trovare qualche boss che qua di solito spawnano o qualche bel animale buono da tamare per portarcelo nelle arene ok eccolo qua mannaggia quanto è grosso cioè si può cavalcare senza seppure che nome gli hai dato scusa eh sì sono sbagliato come è veloce è velocissimo ma provalo provalo vediamo è bello e poi c'è anche l'altro uccello come si chiama quello piccolino che ci si può mettere sulla spalla mi attaccano mi attaccano no 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 chi 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 ok morto morto ok niente come si chiama quell'altro uccellino che di solito si può mettere sulla spalla abbastanza cattivo è sempre l'avvoltoio no ce n'è un altro avvoltoio fa parte dell'altro dlc di morfodon bravo ecco ce n'era l'ho visto prime vicino dove ci sono i cancelli di metallo dove ho tamato l'indominus bello bello grande hai visto comunque che velocino si abbastanza non come il petrodonte però tutto sommato va bene però è figo è figo ma già la sella è incorporata cos'è questa cosa qua sopra dove siamo seduti noi ma no sono solo le piume è la sua pelliccia ok mi sono fatto male a scendere che nome gli do che nome gli do diamogli un nome becchino che vuoi che che occhiano vecchino allora ha giuricato mi direi aspetta guardo quanto danno faccia niente proprio buono con il teresporto però si pure con la vita perché ne ha 20.000 si è buona la vita anche buona aspetta lascialo qua al condor no no non farti seguire si si è su fermo su fermo ok vediamo un po chi è sto boss vediamo ci sono gli umani si è quello è l'umano guarda quanti alfa no non riusciamo a farcela no no non riusciamo a farcela secondo me quando me si dici o se perdiamo di nostri lupi mincazzo per abbiamo già persi tre di lupi cazzo e questo secondo me ci atterra su ascolta vuoi vedere che ci addormenta lui aiuto che sparano no ascolta io vado a prendere il giga che dici e sulla neve però ci sei sì sì ok proviamo andare dai vai ma sono già qua sotto ecco lì no questi sono quelli normali ok qual è l'alfa dove l'alfa si alfa del normale intendo ucciso o la madonna quanta roba malato ma il boss è ucciso dai non ci credo no no l'alfa l'alfa allora tieni tieni guarda cosa mi ha dato mia fino a mia figlia dato troppo guarda tieni dove qui te lo butto a regalino buono buoni miseria quanta roba che figata e voglio vedere ad aprire eh eh sì voglio vedere adesso il boss cos'è che ci dà bossettino dove sei era quassù se non sbaglio si era qua sopra no sì sì adesso non mi dire che ti è spawnato se no mi incazzo vedi perché il t-rex il gigantosauro bisogna sempre portarselo dietro sì però giga togli le palle sono nella sua bocca eccolo la eccolo la poca è sto cosa allora aspetta che mando il giga e ne attacco sì guarda là che ci sono anche dei dino è aspetta chi chi dove qua qua diritto di qua no 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 vabbè aspetta 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 dove è cacchio già andato distante provo a tirargli un colpo no 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 stai lontano perché t'ammazza di nuovo poi non voglio è dietro le rocce è di nuovo lì dove era prima ok perché sì noi siamo morti oddio chi è chi è eccolo l'ho lanciato vai l'attacco giga vai giga cos'è che non ti è chiaro gigattino dai vai partito incazzato vai e andiamo bene dove sei tu ci sei ma dai si è incastrato nella pietra ma che figure di merda ci fai fare non ci credo aspetta che gli si distruggo la pietra mannaccia a te vai vai intanto li sto sparando si accorge di niente ma non lo colpisce troppo distante forse vai che è andato vai che è andato se lo fa solo giga mi sa non andiamo dargli una mano dai così prendiamo anche dei punti adesso si incazza il giga dando pure noi guarda quanto è potente o tutta la roba tec fantastico benissimo tutta la roba tec sbloccata amerone in grammi e erano in grammi wow si si mi ha dato da me mi ha dato l'ingramma tec della di una roba prime della roba prime che migliore di quella standard o mi ha dato anche un artefatto fantastico o che figata bene 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 adesso vediamo nel lupo se c'è qualcos'altro no non credo va bene molto bene allora io direi abbiamo preso dei livelli quindi diamoli noi non ho preso niente noi se un livelluccio direi come sono messo male perché sono ho perso il 70 per cento di vita e non per farti sono messo molto male con tanto ha tolto tanto ha tolto un botto sono appesantito perché via un pochettino ma tutta sta roba qua apriamo alla fine cosa che c'era nel regalo allora nel regalo mi ha dato ulex e non keyboard 10 pezzi poi diamantini rubini smeraldi poi apriamo anche l'altro abbiamo ottenuto le colorazioni vabbè la vernice la butto via io quella strano però che l'alfa non abbia troppato niente aiuto chi è chi è chi è quello lì no sono pesantito non lasciatemi solo aspetta io pensavo ok allora dov'è il mio lupo così concludiamo salutiamo i nostri amici perché questo episodio credo proprio che lo concludiamo qua non so neanche io quanto è durato onestamente lupacchiotto perché non sarà durato qualche oretta e registriamo praticamente da due giorni non so nemmeno io cos'è che andrò a inserire ok sono stracarico con il lupo bene cari figlioli concludiamo qua abbiamo tutto il necessario per affrontare i tre draghi quindi nel prossimo episodio che andremo a registrare forse oggi insieme ad andrea faremo molto probabilmente i tre livelli di difficoltà grazie andrea per l'aiuto noi ci vediamo prestissimo in un altro episodio ciao a tutti ciao ciao andrea